Con nuove tratte, tra cui anche quella diretta con Mosca e una nuova società a cui è stata affidata la gestione, l'aeroporto delle Marche è pronto a decollare. Con l'affidamento in concessione formale definitiva per 35 anni ad Aerdorica, dopo anni non facili per lo scalo anconetano, ora si pensa al futuro. Possiamo essere davvero soddisfatti, ha commentato il presidente della regione Gian Mario Spacca, dopo aver appreso la notizia trasmessa qualche giorno fa dall'Ente Nazionale di Aviazione Civile. Avere la concessione formale definitiva per i prossimi 35 anni è un fatto straordinario per la società aerdorica, che può così programmare il proprio sviluppo con assoluta certezza. Ora l'aeroporto delle Marche potrà ulteriormente consolidarsi e partecipare da protagonista alla crescita dell'economia regionale. Notizia positiva che si aggiunge alle nuove tratte previste come il collegamento con la Russia, che sta già riscontrando molto interesse tra i tour operator e la realizzazione di un nuovo outlet che sarà una vetrina d'eccellenza del Made in Marche.